Quella che contraddistingue il momento della partenza dei giovanissimi, proprio l'inizio della manifestazione, il via per quanto riguarda appunto la categoria G1. Ed ora subito un protagonista, Matteo Creatini dell'Unione Ciclistica Donoratico. Abbiamo visto già la maglia giallo-blu dell'esponente della società livornese guadagnare qualche decina di metri di vantaggio già in occasione del primo giro. E lo vediamo ancora impegnato in questa sua azione che lo pone davanti a tutti gli altri coetanei con i quali sta disputando questa gara per giovanissimi. Che è una manifestazione, la festa di primavera del ciclismo ormai tradizionale, 18 anni e che si inserisce nel programma fine settimana della legalità organizzato dal comune di Calci e dall'unità pastorale della Val Grazia Misericordia di Calci. C'è stato l'arrivo vittorioso da parte di Matteo Creatini dell'Unione Ciclistica Donoratico, un arrivo in solitaria davanti a Matteo Scarselli della ciclistica San Mignato Santa Croce, terzo Andrea Baglione del team Valdinievole, quindi Mirko Domini dell'Unione Ciclistica Santo Pietro Belvedere, mentre tra le femmine ha prevalso Beatrice Bertolini della Butese 2007 nei confronti di Gesmine El-Garani del team Valdinievole. Partenza per quanto riguarda la G2, avete visto per un attimo anche Bernardo Baroni, il direttore di manifestazioni, i soliti consigli, le solite ultime raccomandazioni da parte dei dirigenti di società, da parte naturalmente dei genitori, dei parenti, dei giovanissimi e questo è il via ufficiale per quanto riguarda la G2 in questa manifestazione che tra l'altro ricorda anche Lina Chiellini, una grande appassionata del ciclismo giovanile, già giudice di gara, poi anche dirigente dell'associazione sportiva Montepisano e proprio alla prima società classificata verrà consegnato il terzo trofeo Lina Chiellini, mentre alla seconda società andrà il trofeo associazione Proloco Liveto Terme e alla società che avrà schierato il maggior numero di giovanissimi alla partenza, il Memorial Edon Baroni che viene ricordato in occasione di questo fine settimana ciclistico a Oliveto Terme. Soffia un forte vento come si può vedere da queste immagini che ci mostrano il rettilineo di arrivo, i tanti sportivi, i tanti appassionati presenti a questa rassegna di giovanissimi che vede impegnati in questo momento gli atleti di otto anni per quanto riguarda la categoria G2 e per quanto concerne la conclusione di questa stessa batteria. Vediamo che la maglia bianco-celeste di un atleta del gruppo ciclistico vecchianese ed era Federico Savino che ha ottenuto il successo davanti ad Andrea Bertini e a Niccolò Sitera della ciclistica Valdisieve, terzo è giunto Omar Fanti della Liquicas Veloclube Bottagna, quinto Elia Catoni della ciclistica Valdisieve. Tra le femmine ha vinto nella G2 Alessia Paccalini della mamma ciclistica Livorno, seconda Eva Bianchi della ciclistica San Mignato Santa Croce, terza Greta Zingoni Stabia Ciclismo, poi due esponenti Eleonora Scopetani e Miriam Scopetani della ciclistica Valdisieve. Terza gara in programma di questa rassegna di giovanissimi audio di vetro terme, la G3 e per quanto riguarda la G3 c'è da segnalare che qui c'è una doppia batteria, proprio per l'alto numero dei concorrenti, non si può superare il numero di 44 per batteria complessivamente e allora la G3 è stata divisa e quindi questa è la prima batteria che vede impegnati una venticinquina di concorrenti. Questa è un'immagine che ci mostra il passaggio non nella zona di arrivo, ma lungo questo anello, in pratica un anello di circa un chilometro e 500 metri, dove appunto si sta svolgendo questa manifestazione organizzata dall'associazione sportiva Montepisano, grazie anche al contributo dei comuni di Vicopisano e di Calci, alla proloco di Uliveto Terme e che ricorda Edon Baroni. Questa è una delle auto dell'organizzazione, della società organizzatrice, ancora assieme una quindicina di concorrenti per quanto riguarda la testa della corsa, stanno transitando in questo momento dalla zona di arrivo, coloro che stanno dando vita a questa prima batteria della G3 e che sta avvolgendo ora decisamente al termine, perché siamo veramente alle due tornate conclusive, è iniziato anche l'ultimo giro, quindi la conclusione in questo momento la vediamo con la vittoria ottenuta da Lorenzo Iacchi della ciclistica Valdisieve, davanti a Gianmarco Balestri della mamma e papà Fanini, Unione ciclistica Livorno, Terzo Ludovico Crescioli del team Valdinievole, Quarto Cristian Scelfo dell'Itala ciclismo, Quinto Matteo Leporini della Butese 2007. Questo per quanto riguarda la prima batteria della G3, mentre tra qualche istante le immagini ci porteranno alla griglia di partenza della seconda batteria, un'immagine naturalmente anche nella zona circostante, qui ci sono anche le rappresentanti femminili impegnate in questa seconda batteria della G3 che sta per prendere il via sempre sulla distanza, in pratica di 8 giri pari a 6 chilometri e 800 metri, l'anello di Uliveto Terme. Roberto Spadoni, il presidente del Comitato Provinciale di Pisa della Feder Ciclismo, accanto a lui avete visto l'architetto Roberto Frassi, presidente della società organizzatrice, quindi quarta gara in programma, anche se siamo sempre alla G3 perché si sono dovute svolgere due batterie in quanto si superava complessivamente con le femmine il numero massimo consentito dal regolamento. Continua comunque con grande successo l'attività dei giovanissimi da segnalare che il prossimo 25 di aprile a Tavarnelle di Cortona ci sarà il primo meeting regionale, quindi ci sarà la prima gara che vedrà impegnati per la conquista dei punti valevoli per il Memorial Franco Ballerini e infatti a Tavarnelle di Cortona ci sarà la prova del fuoristrada, il primo trofeo Clima Sistemi Polisportiva Val di Loreto, valevole per il Memorial Franco Ballerini organizzato dall'Olimpia Valdarnese e che porterà sicuramente molti concorrenti a disputare questa prova per giovanissimi di mercoledì 25 aprile. Un 25 aprile che prevede nel programma generale dell'attività in Toscana oltre alla gara nazionale Juniores a Turano il Gran Premio Liberazione Città di Massa Gran Premio Sportivi di Turano con 165 Juniores e il Critti e ci sarà anche a Pian di Scoil decimo giro del Prato Magno per Elite Under 23, gli allievi ad Albergo di Arezzo e a Vada, 43esimo trofeo Arena del Popolo, una gara tradizionale per il 25 aprile così come quella di Albergo, gli esordienti saranno a Livorno impegnati e per quanto riguarda invece giovanissimi, lo abbiamo appena ricordato, ci sarà il meeting regionale del fuoristrada nei pressi di Cortona. Andiamo a vedere ormai la conclusione anche per quanto riguarda la seconda batteria della G3, questo è lo sprint vincente di Mattia Zingoni, gruppo sportivo Stabia Ciclismo, davanti al suo compagno di squadra, vale a dire ad Andrea Governi, mentre in terza posizione Barbieri della Butese 2007, poi in quarta Lullo del team Valdinievole, in quinta invece si è classificato Mattia Piccini della San Cascianese Polimeccanica. Tra le femmine...